Sottoscritti due accordi quadro con le reti Antenna PON, ricerca e innovazione della Basilicata della Puglia, coordinate dalla cabina di regia Benessere Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il primo è stato firmato nella sala consigliare del comune di San Fele, in provincia di Potenza. Il prossimo sarà firmato nelle prossime ore a Gioia del Colle, in provincia di Bari. Tale rete comprende ben 90 amministrazioni comunali fra le due regioni associate, promotrice dell'iniziativa e la senatrice pugliese del Movimento 5 Stelle, Patti Labate. Presente alla firma anche la presidente della cabina di regia, Filomena Maggino, consigliera del Premier Giuseppe Conte. L'accordo quadro consentirà di istruire la cabina di regia sul benessere dei cittadini a livello territoriale, nella quale entreranno a far parte in collaborazione i comuni associati. Obiettivo della cabina di regia nazionale Benessere Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e avviare insieme ad altri territori italiani azioni che consentano l'integrazione e la coesione con realtà diverse, per favorire la qualità della vita dei cittadini, al di là del luogo dove si trovino, affrontando il tema della trasformazione digitale ed energetica. Sono davvero orgogliosa, affermato la senatrice Labate, e soddisfatta della positiva riuscita di questi contatti. Mi ha fatto immensamente piacere contribuire alla collaborazione del territorio pugliese e lucano con la Presidenza del Consiglio. Il momento della firma sancisce solo l'avvio ufficiale delle attività di una rete che ha già stretto le sue maglie in questo periodo di contatti propedeutici. La cabina di regia Benessere Italia, ha commentato la professoressa Maggino, sta diventando un vero punto di riferimento per il territorio. Questa iniziativa permetterà in definitiva di impattare direttamente sulle politiche da adottare con i piccoli e medi comuni al fine della promozione del benessere dei cittadini in modo equo e sostenibile. La vera risorsa del nostro paese, conclude la Maggino, sono i territori, perché in questi luoghi vive l'identità di ognuno di noi. La nostra missione è preservare questa identità che ci caratterizza in tutto il mondo.